In una notte onesta, il re si accorse di non avere un solo eredio, ma due, e quindi ci fanno sparire uno per il bene della pace. Quando Luigi XIV scoprì il punto di morte del padre, che aveva un fratello gemello, decise di imprigionarlo e di costringerlo con una maschera di ferro. Mamma mia, fatti finesti, finché i nostri tre eroi, Athos, Portos e Aramis, decisero di sovvertire questa situazione, rimettendo al trono il vero re, cioè Filippo, e non Luigi XIV. Ciao.